Si sta celebrando a Milano il processo, con rito abbreviato, nei confronti di Sayed Fayek Shelba Khmed, ex mujahidine egiziano in Bosnia ma residente a Fenegrò, accusato, insieme con il figlio 23enne, Sajed, di associazione con finalità di terrorismo. Attualmente il giovane sarebbe in Sire come foreign fighter. Il 52enne egiziano è invece detenuto nel carcere di Nuoro, in Sardegna, e oggi ha partecipato in videoconferenza all'udienza davanti al GUP Stefania Peppe. La sua difesa ha chiesto di sentire altri due testimoni, due agenti della Digos di Como che hanno condotto le indagini insieme con altri poliziotti di Milano. Nella prossima udienza, fissata per il 5 febbraio, il giudice per l'udienza preliminare deciderà sulla richiesta avanzata dalla difesa. In calendario altre due udienze, il 7 marzo e il 26 marzo. L'operazione che aveva portato all'identificazione dell'egiziano e del figlio, denominata Talis Pater, era stata condotta dal PM Enrico Pavone e dal responsabile dell'antiterrorismo milanese Alberto Nobili. Gli agenti della Digos avevano accertato che dalla Siria il figlio contattava abitualmente i genitori e li aggiornava sui combattimenti, condividendo anche foto di guerra e di persone uccise in battaglia. In Siria Sajed si è sposato e ha avuto un figlio. Dal 2014 non sarebbe mai tornato in Italia, ma non è escluso che progettasse di tornare dai genitori. Grazie a tutti.